Federico Cina, 16 anni, giocatore del team di serie A1 maschile Cittivella Messina, ma che si allena al Country Time Club di Palermo, ha tenuto tutti incollati davanti alla tv nella notte tra venerdì e sabato scorsi, in cui ha disputato la sua prima semifinale Slam Juniors sul cemento di New York. Una sfida, quella con il brasiliano 17enne Joao Fonseca, numero 7 del ranking giovanile, persa per S4-3664. Federico è tornato ad allenarsi in città. È il primo passo e spero che ce ne saranno tanti altri, se devo continuare a lavorare bene come sto facendo, i risultati arriveranno. Questo torneo mi ricordo il più bello, forse il match point contro Demi in ottavia di finale, che quando è finito a 18 al terzo, sicuramente la partita più complicata. Credo che quello là sia il momento più indimenticabile. Io ho un carattere abbastanza sereno e invece lui è serenissimo, perciò ad oggi riusciamo bene a scendere le due cose, allenamento al Country e casa a papà è un altro discorso, perciò fino ad oggi ti posso dire che è meraviglioso. A livello tecnico credo che sia molto legato all'aspetto fisico, quando lui crescerà fisicamente secondo me migliorerà tanto il servizio, che già da oggi pomeriggio inizieremo a lavorare tecnicamente per aggiustarlo perché non le segue ancora molto bene, poi ha un bellissimo rovescio naturale e il dritto è da lavorare.